Oggi in Edicola, Rassegna Stampa. Buongiorno e bentrovati da Roberto Bonfantino al nostro appuntamento con la Rassegna Stampa locale. Andiamo a vedere subito le prime pagine dei due quotidiani in Edicolo a Germine e Provincia. Iniziamo dalla prima del Corriere Romagna. Esplosione e morte di Samuel, bombola carica oltre i limiti. Si parla della tragedia di Bados, oggi il corpo torna a casa, le segui saranno celebrate lunedì. In taglio alto, la città in lutto, Cagnoni, una folla per l'ultimo saluto. Di dipendenti di IEG schierati davanti all'ingresso della fiera al passaggio del feretro. È il giorno dell'addio a Lorenzo Cagnoni, il presidente della fiera, morto martedì a 84 anni. Ieri più di 400 persone hanno partecipato ai funerali nella chiesa di San Martino in Riparotta. Prima però il corteo funebre è partito dalla Camera Ardente e passato davanti alla porta sud del quartiere feristico, dove erano schierati ad attendere il feretro tutti i dipendenti IEG. I ricordi dell'onorevole Gnassi e del sindaco Sadegulvad. Fotonotizia di centropagine dedicata alla MotoGP Misano comincia lo show. E poi furto d'acqua, ecco la stangata. Forestale in prima linea, contravvenzioni fino a 50.000 euro. Furti d'acqua nei fiumi arriva la stangata fino a 50.000 euro. Nelle ultime estati l'intensificarsi della società ha determinato il proliferare di ordinanza antispreco per tutelare un bene comune come l'acqua. La storia da Rimini avviene nel talento della danza. Vediamo ritratto in foto il ballerino Federico Berardi. Ponte degli scout scatta la chiusura, durerà fino a primavera e poi a Riccione accolta la proroga, il medico resta. Vediamo anche in le spalle due richiami, uno riguarda lo sport, la superbike, Bulga si gode promozione rivincita, il secondo cultura e spettacoli, non tre sorelle, Cekov alle città visibili. Lasciamo la prima pagina del Corriere Romagna per andare a vedere quella dell'arresto del Carlino. Litten Rai condannato Paesani, questo è il titolo d'apertura. Il patron del Coconuts, allora candidato sindaco, aveva minacciato l'avversario politico durante un fuorionda. Grazie presidente, questo è il titolo della fotonotizia di centropagina. L'omaggio dei dipendenti della fiera al passaggio del feretro di Cagnoni. 500 persone hanno partecipato alla cerimonia funebre per il manager scomparso, trasmesse in streaming in quattro continenti. I politici, Lorenzo, realizzeremo i tuoi sogni. In taglio alto, bombole incriminate, oggi torna a casa la salma di Samuel, il bambino morto a Olbia e poi un altro richiamo detenuto aggredisce un agente, tensione ai casetti. In spalle il sondaggio, 7 turisti su 10 torneranno a Rimini. Spiaggia e hotel, ok, male la sicurezza. Riccione, telefonia, iniziato il monitoraggio delle antenne. Marina centro, non brilla più, Marchini chiude dopo 55 anni. Addio alla gioielleria. In taglio basso, altri due richiami. Il primo riguarda la MotoGP, il traguardo dei 150 mila spettatori, pronti a partire con il Gran Premio. Rischiano grosso i vampiri, tra virgolette, del Marecchia. Controlli dei carabinieri forestali, multe salatissime per i tre agricoltori sorprese e rubare acqua dal fiume. Restiamo sulle pagine dell'arresto del Carlino, andiamo nelle pagine interne. Pagine 2 e pagina 3 sono dedicate all'addio Lorenzo Cagnoni. 1939-2023, addio presidente, ultimo viaggio tra la folla, le lacrime dei potenti, hai fatto la storia di Rimini. Oltre 500 persone in chiese sul Sagrato per i funerali del manager. La promessa dei sindaci, realizzeremo il tuo piano per lo sviluppo della fiera. Alla folla che l'ha accompagnato ieri nel suo ultimo viaggio, Lorenzo Cagnoni avrebbe sorriso. Ai potenti avrebbe stretto la mano, dispensato quella qualche consiglio dei suoi. Si potrebbe fare questa cosa e magari anche quella. Alla città mancherà tanto Cagnoni, signore delle fiere, uno dei protagonisti assoluti della politica e dell'economia riminese. E ieri Rimini, nel giorno dei funerali del presidente Yeg, spentosi 84 anni dopo una malattia, gli ha riservato un sincero e commosso saluto. Un abbraccio iniziato già alla Camera Ardente, allestita in Consiglio Comunale, dove sono passate tra mercoledì ieri mattina quasi 2000 persone. E ce n'erano quasi 500 ieri pomeriggio alla chiesa di San Martino in Riparotta, a due passi della fiera. Prima della messa celebrata da Don Danilo Manduchi, il ferretro è stato portato davanti all'ingresso della sua amata creatura. Una sorta di inchino per permettere ai dipendenti di Yeg di salutarlo. Il messaggio Don Danilo Manduchi cita Guccini e dice la vita di Lorenzo è stato un dono per tutti noi. Il corteo sfila in fiera diretta della cerimonia in quattro continenti. La Didi Yeg dice è stato come un padre per noi. Voltiamo pagina e parliamo del sondaggio. Tra i turisti, settembre caldo, il 70% tornerà a Rimini, promossi hotel e spiagge. L'indagine di Riviera Sicura su un campione di 1400 persone, ma le criticità non mancano. Molti non si sono sentiti sicuri durante la vacanza, bocciati i parcheggi, la viabilità e la ZTL. I turisti che hanno deciso di fare le vacanze in Riviera quest'anno sono pronti a tornare anche nel 2024, ma c'è tanto da migliorare stando i risultati del sondaggio condotto dagli albergatori dell'Associazione Riviera Sicura. Giuseppe Salomone commenta ospitalità e servizi restano la nostra forza, ma dobbiamo cercare nuovi mercati che sopperiscano all'assenza dei russi. La Romagna riparte MotoGP a 150 mila giri. Conta la rovescia per l'avvio del Gran Premio nel circuito di Misano. Spettatori in crescita. Bonaccini dice segno di ripresa dopo l'alluvione. Oltre 150 mila presenze turistiche nelle strutture ricettive Romagna grazie alla MotoGP. Sono i numeri che offre l'Osservatorio Turistico regionale come ricaduta di un evento che vuole tornare ai livelli pre-pandemia. Da allora molto è cambiato. Oltre al Covid c'è una MotoGP in cerca d'autore dopo l'addio di Valentino Rossi. Ma a Misano la riviera può contare su una nutrito truppa di piloti locali che non sono affatto comparse. A partire da Marco Bezzecchi, terzo nella classifica mondiale, a caccia del primo Pecco Bagnaia. Quanto basta di chiamare il pubblico delle grandi occasioni e superare le 101 mila presenze registrate un anno fa. Litte furibonda nella sede Rai, paesani condannato per minacce. Il patron del Coconaz era accusato di aver offeso l'avversario Steven Ormerod in corsa con Gloria Lisi. I due si erano presi a male parole a margine delle registrazioni di una tribuna politica a Bologna. Dalla TV al giudice di pace. Il fuorion dal vetriolo è andato in scena negli studi Rai di Bologna tra Steven Ormerod e Lucio Paesani in tempo di elezione e giunta a sentenza. Quella di condanna per minaccia al fondatore della lista Noemi Amorimini che nel corso delle scorse elezioni sostiene la coalizione di centrodestra e che proprio nel settembre del 2021 si trovò faccia a faccia con l'esponente della lista Rimini per le imprese che correva per l'ex vicesindaca Gloria Lisi. Fu proprio in questo contesto di elezioni incandescenti appunto che maturò l'incontro-scontro tra Paesani e Ormerod, culminato in una querela per minacce con cui il sostenitore della Lisi ha trascinato il patron del Coconaz in tribunale. Lì dove ieri a Bologna Paesani è stato appunto condannato a pagare una multa di 1.000 euro ridotta a 800 essendogli state riconosciute le attenuanti generiche, oltre al risarcimento del danno morale che sarà quantificato in sede civile comprendendo una provvisionale già disposta di 2.000 euro più le spese legali. Bimbo morto nell'esplosione bombole del gas sotto esame, oggi la Salma torna a casa. Procura alla ricerca di chi ha venduto i contenitori per il fornello agli amici degli Inbuzan, ipotesi di un caricamento oltre la soglia consentita. Lunedì i funerali del piccolo Samuel. Samuel torna a casa, arriverà questa mattina a Bologna, la Salma del piccolo Samuel Inbuzan, il bambino di 10 anni morto il 31 agosto scorso sulla spiaggia di Bados a Olbia, nel tragico incendio del camper. La famiglia del piccolo, che nel frattempo è rientrata a Rimini, dove anche il corpo di Samuel sarà trasportato da Bologna, ha deciso che i funerali si terranno lunedì alle 15.30 alla chiesa Santa Maria Mater al villaggio Primo Maggio. Ci sarà anche il papà di Samuel, Daniel Romulus Inbuzan, che al momento si trova ancora ricoverato al Bufalini di Cesena nel reparto Grandi Ustionati per completare il ciclo di cure a seguito delle ferite rimediate dall'uomo nel tentativo disperato di strappare il figlio al destino tanto orribile. Emergenza e la carcere scoppia, agente aggredito da un detenuto. Il Sinappe, dice, la situazione dei casetti è al limite. Dietro le mura del carcere l'equilibrio tra agenti di polizia penitenziaria e detenuti vacilla ancora. Ai casetti martedì sera infatti è andato in scena un altro episodio di disordinaria follia quando, all'ora della terapia, un detenuto di origini nordafricane che già in passato aveva dato segni di squilibrio con atti di autolesionismo, aggredito e colpito un agente della polizia penitenziaria procurando gli escoriazioni e lividi ritenuti guaribili con una prognosi di 5 giorni. Tutto si sarebbe generato quando il ristretto era fuori dalla cella per ricevere la terapia. A quel punto però il detenuto ha avanzato alla richiesta di essere visitato dal medico del carcere, pretendendo di saltare la fila nonostante non avesse nemmeno programmata la visita per quel giorno. Marina Centro perde un gioiello, mollo tutto, vado in pensione. Così Giuseppe Marchini che chiuderà a fine mese il negozio di Preziosi dopo 55 anni di attività. Mollo tutto, è arrivato il momento di andare in pensione. Se ne va un altro pezzo storico del commercio di Marina Centro, il gioielliere Giuseppe Marchini e la moglie hanno deciso di dire basta. Ho iniziato a lavorare 55 anni fa, ero un ragazzino di appena 17 anni. Dire che di strada ne ho fatta tanta è arrivato il momento di smettere. Ponte degli Scout in a cantiere per salvarlo da pioggia e vento. Da oggi il collegamento sarà chiuso al transito. Prendono il via i lavori di riqualificazione messa in sicurezza del ponte degli Scout. Il collegamento in legno che da oltre vent'anni collega il parco 25 aprile a via Tonale e la quartiere delle Celle. L'investimento di 630 mila euro prevede il rafforzamento della struttura e il suo incapsulamento per difendere il legno dagli effetti dei fenomeni atmosferici. Vedrà la realizzazione di un rinforzo del sistema di controvento degli archi allo scopo di impedire eventuali movimenti laterali del ponte in caso di forte raffiche. Andiamo nella pagina di Riccione. Via libera al monitoraggio delle antenne. Rivelazioni di Arpe in Viale Belluno dopo la protesta dei residenti. Altri 15 siti finiranno presto sotto la lente. In sospeso Andruccioli stava lavorando da mesi a un regolamento comunale sui rischi. Parte in Viale Belluno su Commissione del Comune il primo monitoraggio di Arpe e su eventuali effetti elettromagnetici generati dall'antenna di telefonia mobile. Non rimarrà un caso isolato. Sono una quindicina, dato provvisorio destinato a crescere, gli impianti che si intende monitorare. Si procederà in quelli più vicini ad abitazioni e siti sensibili. Lavori pubblici si gonfiano i costi del nuovo museo, conto da 500 mila euro entro fine anno. Altra categola per l'opera che sorgerà alla ex fornace dopo lo stop del cantiere e lo scontro con la ditta. Non c'è pace per il costruendo museo del territorio. Ultima in ordine di tempo è la mazzata sui conti. Stando alle verifiche fatte dagli uffici comunali, i costi dell'intervento sono aumentati in modo considerevole. La stima del costo dell'opera era fissato in 4,2 milioni di euro. Di questi, un milione arriva dal finanziamento della regione, rientrando nei fondi POR Fessere. Il resto invece va ricavato attraverso i mutui accesi dell'amministrazione comunale. Questo era il progresso a cui si sono sommate le problematiche del cantiere. La giunta Angelini, nell'ottobre scorso, aveva lamentato uno stop di lavori di sei mesi e si era messa all'opera per spingere l'impresa a rimettersi all'opera attraverso la costituzione in mora dell'azienda. Andiamo a Cattolica, parcheggi e strade per la zona artigianale. Gran parte dell'area cambia volto sotto la spinta dei privati. La comune Cattolica ci guadagnerà in asfalti, illuminazione e posti auto. I confini, la lottizzazione è delimitata a monte da via Luciona che poi incrocia via Toscanini. Un mare per tutti, pronto il Narvalo. Messa in acqua l'imbarcazione che permetterà ai disabili di fare escursioni a vela. Ora puntiamo al 18 metri. Il progetto, l'associazione Pura Vida 2.0, è al lavoro per portare in acqua un natante attrezzato lungo il doppio. Andiamo nella pagina di Bellaria e Gemarina. Bellaria pensa al futuro. Investiti 15 milioni, il sindaco Giorgetti fa il punto sui bandi di agosto tra edilizia, porto e viabilità. Ad agosto messe a terra quattro anni di intensa attività. L'amministrazione ha affrontato le questioni circa lo sviluppo coordinato e strategico della città. Così il sindaco Filippo Giorgetti introduce le diverse opere portate a bando pubblico, o il cui iter è stato concluso tra la fine di luglio ed il mese di agosto. Aggiunge poi, è stata un'attività politico-amministrativa importante che ha mosso 15 milioni di euro. Si è intensificata proprio in un momento che vede molte realtà rallentare per le ferie estive. Capitolo scuola per l'Istituto Ferrarin è previsto un adeguamento sismico e ampliamento degli spazi. La pagina di Sant'Arcangelo e della Valmarecchia. Contadini vampiri prelevano acqua dalla Marecchia a Sant'Arcangelo e Pennabilli pizzicati tra agricoltori che sfruttavano abusivamente il fiume per irrigare. Rischiano grosso, grossissimo, i tre contadini della Valmarecchia sorpresi nel corso dei controlli da parte dei carabinieri forestali, mentre risucchiavano l'acqua del fiume Marecchia abusivamente per irrigare le proprie colture. Nello specifico, i tre agricoltori furbetti pizzicati dai militari dell'arma ora rischiano di andare incontro ad una maxi-multa assalatissima. La sanzione, infatti, potrebbe arrivare anche a 50 mila euro per i tre contadini sorpresi nei comuni di Sant'Arcangelo e Pennabilli. La sindaca di Sant'Arcangelo, Alice Parma, che vediamo anche ritratta in foto, giusto far pagare la sosta di sera, non danneggerà i locali. La Parma replica stizzita alle accuse di Lega e Forza Italia. Le tariffe restano inalterate, i parcheggi gratuiti in città non mancano. E andiamo nella pagina di San Marino, Monte Giardino, artisti, porta a porta. Il castello più piccolo di San Marino riapre le porte delle case per la tredicesima edizione del festival. cartellone, il nome forte è quello degli Schiantos, due giorni di musica, poesia e fiabe. Chiudiamo con questa notizia e il resto del Carlino per dare un'occhiata però al suo supplemento di sport quotidiano sportivo. Andiamo a vedere come di consueto in taglio basso, mentre chiaramente c'è in primo piano anche Pecco Bagnaia, ricordarci che siamo nel weekend della MotoGP. Andiamo in taglio basso, dicevo, per vedere i due titoli che riguardano il nostro territorio. Il primo riguarda il basket di Serie 2, rinascita strapazzata a Reggio Emilia, ma domani è già tempo di Supercoppa. Ne approfitto per ricordare che si era trasmessa in diretta streaming la partita alle 21 con Acchiusi sabato sera dal Flaminio su Icaro Play e in differita poi domenica alle 13 su Icaro TV. Il secondo richiamo riguarda il calcio. Remondi studia le contromisure per la Torres, per il coach del Rimini. Rientra l'emergenza a centrocampo pronti Langella e Marchesi. Andiamo nelle pagine interne proprio a riprendere quest'ultimo titolo. Il Rimini tira il fiato a centrocampo alla scoperta di Langella e Marchesi. Più abbondanza per Raimondi con la Torres. I biancorossi raggiungeranno Sassari con un volo charter in partenza domani mattina. Ricordiamo che invece alle 12.30 trasmetteremo in diretta sulla nostra pagina Facebook Icaro Sport la conferenza stampa del prepartita proprio di mister Raimondi. Chiudiamo appunto con il basket. Duro KO a Reggio prima della Coppa ma è già ora di pensare a Chiusi. L'RBR si lecca le ferite dopo il meno 34 rimediato a Cavezzo. Il primo test è fondamentale e però domani quando si inizia a fare sul serio. Abbiamo anche una notizia di baseball in chiusura, l'aggiungiamo volentieri. Falcons e New Rimini appuntamento col destino. Pirati lontani un successo dal ritorno in Serie A. Si stanno giocando i playoff promozione. Chiudiamo con questa notizia anche quest. Ci fermiamo per una breve pausa dopo la quale sfogheremo anche le pagine interne del Corriere Romagna. Restate con noi. Ripartiamo da pagina 2 e pagina 3 del Corriere Romagna. La promessa di figliuolo dall'epicentro delle frane. I soldi ci sono. Fidatevi. Si parla della ripartenza post alluvione. Gli a commissario per la ricostruzione incontra amministratori e cittadini. Appena arrivano le richieste rimborsiamo. Questa è la sua promessa. Sostegni ai piccoli comuni. Il racconto della notte tremenda della frana e l'appello al generale. Siamo nelle sue mani. Ancora da Ciola a Raldi a Sorrivoli. L'autunno alle porte e il timore di restare isolati. I cantieri in provincia di Forlicesena sono in corso o conclusi 511 interventi di somma urgenza per oltre 66 milioni di euro. Quelli nel Riminese, la vicepresidente Priolo ha fatto visita anche nel Riminese, sono in corso o in avvio 241 interventi da 12,8 milioni. Voltiamo pagina e parliamo sempre della ripartenza post alluvione ma in questo caso anche della MotoGP soprattutto. Bonaccini, la MotoGP a Misano, è un altro simbolo di ripresa. Il presidente della regione Mila Romagna parla di segnale positivo di una terra che non si arrende, attese fino a domenica oltre 150 mila presenze nelle strutture ricettive della Romagna. La ricostruzione dopo il disastro provocato dall'alluvione passa anche dal rilancio dell'economia del territorio e dall'immagine mediatica. Misano, col suo circuito, è da sempre testimone di storie di motori, passione e velocità e quest'anno, dopo la terribile alluvione di maggio, è anche e soprattutto simbolo positivo di ripartenza di una terra che non si arrende. Non ha dubbio il presidente della regione Stefano Bonaccini che assisterà domenica alla gara sul valore che veicola il Moto Mondiale. Un appuntamento del Mila Romagna Sport Valley, prosegue Bonaccini, che sosteniamo e che, assieme al Mondiale di Superbike, fa della nostra regione una tappa internazionale unica per il motociclismo e sui tanti appassionati. Voltiamo a pagina, doppia pagina dedicata all'ultimo saluto a Lorenzo Cagnoni, la città in lutto, i funerali a San Martino in Riparotta, una folla per l'addio a Cagnoni, Ieg tutti in strada ad applaudire. Amici, conoscenti e concittadini si stringono attorno allo storico presidente della fiera. Don Manduchi, un protagonista sempre pronto a costruire e mai a distruggere. L'omaggio al magnifico, i dipendenti della fiera hanno atteso il passaggio del corteo funebre davanti alla porta d'ingresso del quartiere. Il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, dice ci ha saputo dare tanto. Inauguriamo Vicenza oro, una rassegna che aveva adottato e sarà la più grande della storia. Il parlamentare, lui la storia l'ha fatta, ne è un indelebile protagonista, fa parte di una generazione attaccata alla città. Il dolore di Gnassi, amato Rimini fino all'ultimo, i ricordi più belli. Sadegolvad, Ieg e Fiera sono cardini dello sviluppo e l'unica forma di gratitudine che avrebbe voluto. Ancora il primo cittadino è stato protettivo verso noi giovani amministratori, non mancava mai di dare un consiglio quando richiesto. Oggi il piccolo Samuel ritorna a casa, bombola killer caricata oltre i limiti. La tragedia di Bados, le sequi saranno celebrate lunedì nella chiesa Santa Maria Mater Ecclesi, ancora senza indagati il fascicolo per omicidio colposo della procura di Tempio Pausania. Tutte le attenzioni di investigatori e vigili del fuoco ancora sono puntate sulla bombola, forse acquistata all'estero. Ancora nessun indagato, il fascicolo aperto dal pubblico ministero Sara Martino della procura di Tempio Pausania è ancora, come detto, a carico di ignoti. Furti d'acqua dal fiume Marecchia, controlli e multe fino a 50 mila euro. Si parla della siccità, degli effetti collaterali, raffica di ispezioni di carabinieri della forestale, tre persone sanzionate tra agricoltori e titolari di aziende. I danni provocati all'ambiente durante i mesi estivi caratterizzati da una costante carenza idrica, gli attingimenti abusivi possono generare rilevanti danni agli habitat fluviali. Alluvione frani tecnici agrari, così si interviene, sarà fatto un documento con indicazioni tecniche ed economiche necessarie al ripristino dei terreni. Sulla luvione e sulle frane che hanno colpito la Romagna nel mese di maggio si continua a parlare e non sempre gli interventi che leggiamo e ascoltiamo sono particolarmente centrati sull'argomento. Stanchi di ascoltare persone che a loro dire sono prive di qualifica, esperti improvvisati di squisire di clima, terreni, fiumi, boschi e di reti scolanti, i tecnici agrari romagnoli hanno deciso a questo punto di fare il punto della situazione e di far valere le loro competenze qualifiche attraverso la redazione di un documento con chiare indicazioni tecniche ed economiche necessarie alla ripristino dei terreni nelle aree alluvionate della Romagna e nei territori colpiti dal dissesto idrogeologico. Insulti e minacce nella sede RAI, condannato Lucio Paesani, elezioni di fuoco, il proprietario del Coconaz, allora candidato del centrodestra, accusava Stephen Ormerod d'averlo diffamato. Aggredisce agente della penitenziaria per assaltare la coda, il poliziotto ha riportato ferite guaribili in cinque giorni a dare in escandescenze un detenuto nordafricano. Voltiamo ancora pagina, ponte degli scout, al via il restyling, niente pedoni e bici fino a primavera. Incapsulamento come intervento primario per difendere il legno dai fenomeni atmosferici. Ricordiamo vent'anni fa, e lo ricorda anche il Corriere, l'inaugurazione. Disagi indispensabili per la sicurezza e di 630 mila euro il accosto dei lavori finanziati da Comune Regione. Morolli, capiamo i disagi, ma è indispensabile. Disabilità, il Comune abbatte le barriere in altri quattro punti. I lavori nel piazzale Cesare Zavattini verranno conclusi prima dell'inizio della scuola. Rimini, città aperte è accessibile a tutti, in particolare a chi è costretto a spostarsi in carrozzina. E questo è l'obiettivo dell'amministrazione comunale che ha dato il via ai cantieri, primo stralcio degli interventi, costo 47 mila euro, per l'abbattimento delle barriere architettoniche in quattro punti. Piazzale Cesare Zavattini, via Emilia, civico 10-12, via Toniolo, civico 70, Parco Gianni Rodari. Si tratta di interventi finalizzati a garantire l'accessibilità a marciapiede percorsi pedonali presenti sul territorio comunale che non comporteranno limitazioni alla circolazione stradale. L'intervista a Lorenzo Pastesini, direttore commerciale di SGR, energia meno cara e temperature miti, luce e gas, bollette più basse del 35%. Il direttore commerciale della società aggiunge che se abbassassimo i termo da 20 a 18 gradi potremmo ridurre di un ulteriore 10% i consumi per un risparmio di 120-140 euro all'anno. Il numero delle ratizzazioni nei primi otto mesi del 2023 è diminuito molto, dalle oltre 15.000 del 2022 alle attuali 1.200. Feder Consumatori dice che gli aumenti di agosto fanno paura. L'Arena ha rilevato un incremento del prezzo del gas per i clienti del servizio di maggiore tutela del 2,3% ad agosto. Lo segnale in una nota a Feder Consumatori. Tal aumento rappresenta un campanello di allarme per la prossima stagione invernale, aggiunge, ad agosto infatti con una contrazione della domanda era legittimo aspettarsi un conseguente adeguamento di prezzi. Ci ritroviamo invece di fronte a una grave instabilità nell'andamento di questi ultimi in un mercato ancora poco trasparente che non è stato ripulito da storture e opacità. Per di più in autunno più voci spaventano una nuova corsa a rialzo di prezzi. Voltiamo ancora pagina e andiamo a vedere un'altra intervista quella a Federico Berardi ballerino classico a 12 anni. Sono entrato all'opera di Vienna a discipline e rigore così danzo per il mondo. Mi allenavo dalle 8 del mattino alle 18 di sera e poi dovevo fare i compiti. Non seguo una dieta ferrea ma cerco di alimentarmi in modo sano ed equilibrato. Nelle mie stagioni ungheresi mi sono esibito al David Koch Theater di New York all'Opera di Zagabria e in vari teatri in Florida. Il giro di Boa è arrivato nell'agosto del 2017 con il passaggio al Teatro di Salisburgo in Austria. E andiamo a questo punto nella pagina di Cattolica. Accolta la proroga i 1700 pazienti non perderanno il loro medico. Dopo la mobilitazione di cittadini uno dei posti è rimasto vacante. Il dottor Tomelli dice felice di poter continuare a indossare il camice. Pagina di Cattolica della Valconca. San Giovanni Marignano per la precisione. Comune poco attento alle frazioni. Intervenire su viabilità e mezzi veloci. L'esponente della Lega Cereda dice a Torconca. Era. Ha iniziato la raccolta porta a porta senza informare i cittadini. Voltiamo pagina. Andiamo nella pagina di l'area della Valmarecchia. Dalle scuole al porto fino alla Fornace. In arrivo i bandi per i lavori da 15 milioni. Gli interventi di riqualificazione. In fase di pubblicazione anche la procedura per affidare i lavori che interessano l'istituto Ferrarin. Box Sant'Arcangelo. Nuova sede in arrivo. Di sé al termine. La struttura aprirà i battenti dal prossimo 18 settembre. Non lontano dal centro. Pollificio alla polemica. Tonielli progetto del polo avicolo. Ecco chi sapeva cosa sarebbe successo. Il sindaco di Casteldel ci dice lo sapevano solo il comune di Maiolo, la giunta regionale e la provincia di Rimini. Un tema mai discusso. La giunta dell'Unione non ha mai avuto tale argomento all'ordine del giorno. Non era neanche di sua competenza. San Marino sindacato in festa. Confederazione sanmarinese del lavoro. Celebrazione al parco pausa per gli 80 anni. Il segretario Merlini dice dopo le macerie del ventennio fascista la ricostruzione della democrazia. A Savignano la decisione per via Selbelle concordata con i cittadini. Nella replica sindaco assessora ribadiscono è una sperimentazione per risolvere un problema complesso. E chiudiamo con il motociclismo. Bulega si gode una promozione che sa di rivincita. Ho imparato dagli errori e a capire le persone. Il lato umano della squadra è molto importante. Con questa notizia chiudiamo il Corriere Romagna. Noi ci fermiamo qui per quanto riguarda la nostra rassegna stampa locale ma torneremo dopo le notizie nazionali con il nostro TG Mattina delle 8.30. Quindi vi aspetto e intanto vi auguro un buon inizio di giornata.